Salve a tutti, eccoci arrivati a un nuovo trade condiviso sempre con gli utenti Platino in questo caso si tratta del dollaro franco che ieri ha lasciato una pinbar FTV sul grafico daily e dopo un po' di studio ho deciso di entrare short con un grafico a 4 ore che aveva confermato la debolezza in queste ultime ore vedete con questo falso massimo, vedete qua c'è stato un falso minimo, aveva fatto il falso massimo al rialzo il trend ultimamente è abbastanza negativo, c'è stata questa forte negazione e con la conferma di questa mattina della debolezza del mercato ho deciso di fare questa entry con un sell proprio in area 0,96 e uno stop al di sopra del 60% della pin il target è a T6 quindi in estensione sull'area di minimo e quindi devo dire che il trade pagherebbe un 1,2 e mezzo di risk reward molto bene, vedremo poi il da farsi nei prossimi video che cosa succederà, un saluto intanto eccoci arrivati alla seconda puntata dell'operazione sul dollaro franco ieri abbiamo avuto un crollo vertiginoso del dollaro franco e questa mattina mi sono spostato ecco proprio qua, sui massimi della notte che poi corrispondono ai massimi del 4 ore potrebbe essere che venga eseguito con questo trailing profit diciamo quindi se dovesse andare a trailing profit comunque guadagnerei circa un 1,1 se dovesse andare a target comunque avrei un 1,2 e mezzo vedremo poi il da farsi o quello che succederà nelle prossime ore col prossimo video un saluto eccoci subito dopo pochi minuti, visto chiaro qui, registro il video l'operazione si è chiusa in stop profit in questo caso, però va bene così ho incassato comunque quasi un 1,1 di risk reward e adesso ovviamente guardiamo avanti alla prossima operazione quindi bene, andiamo avanti così, alla prossima eccoci arrivati a una nuova operazione, in questo caso sempre sull'euro-dollaro poco fa sono entrato short sull'euro con un obiettivo importante, in realtà poi vedrò come gestirla e ciò che mi ha fatto pensare allo short è stata una dinamica totale tra weekly e daily e 4 ore poi soprattutto weekly e daily dove come potete vedere c'era stato questo tocco dell'area 1,14 durante la settimana è un'area di offerta molto importante dopo la grande volatilità dell'ultimo periodo in questo caso come si può notare il daily ha fatto una falsa rottura con recupero proprio ieri e aumento della volatilità al ribasso eccola qua la barra di vola e quindi questa cosa qua, questa, ci crea i presupposti per fare un trade short a questo punto, questa mattina, nelle 4 ore si è formata una dinamica interessante ovvero nel movimento di forza ribassista c'è stato un consolidamento su quest'area c'è stata la riprova di andare verso queste zone e il mercato poi è stato buttato giù quindi ho deciso di vendere su queste aree uno stop strettissimo proprio qui perché se dovesse ritornare su poi al massimo vedrei cosa fare quindi l'1% l'ho messo qua e andando a capire un pochino le varie dinamiche ho deciso di mettermi su questa zona proprio perché comunque era una zona molto interessante di take profit dato da un livello di estensione che noi utilizziamo il T7 che era in linea con l'1.11.40 che se andiamo sul livello weekly diciamo era il livello di presa profitto dell'operazione long che ho fatto praticamente circa 10-15 giorni fa e è un'area sicuramente importante di arrivo quindi ho deciso di mettermi lì è ovvio che abbiamo anche il T5 qui aree a 12.20 molto importante poi l'1.11.80 con il T6 sono tutte aree che combaciano perfettamente con le mie zone le mie tre zone di livello quindi 1.12.20 con il T5 1.11.80 con il T6 1.11.40 più o meno con il T7 sono entrato short il risk reward in questo caso è dell'1 a 3 esatto leggermente superiore in realtà però 1 a 3 e quindi sicuramente ne vale la pena poi vedrò perché nel momento in cui se dovesse continuare la sua fase ribassista ovviamente questo è quello che io credo che possa avvenire se non lo facevo questa operazione ovviamente il mio stop se dovesse avvenire il movimento il primo livello appunto dove guardarsi è il T5 dove potrei anche incassare però prima ovviamente dovrò vedere cosa succede detto questo per questo trade al momento è tutto ci vedremo al prossimo video per vedere un po' come sta andando o come è andato grazie a presto eccoci arrivati al secondo video dell'operazione sull'eurodollaro lunedì mattina e in questo momento la posizione sta guadagnando era arrivata a un T5 venerdì quindi guadagnando oltre l'1 a 1.5 l'obiettivo però è cercare di andare a 1.3 su questo livello adesso vedremo un pochino il da farsi il 4 ore chiuderà tra poco verso le 9 quindi tra una mezz'ora e al momento siamo messi così è possibile che visto il 4 ore come si è impostato possa andare a spostare lo stop sopra i massimi fatti qui di swing e quindi andare a fare trailing diciamo manuale vediamo, vediamo un po' come chiudere 4 ore poi comunque vi farò sapere nel prossimo video come ho gestito la cosa un saluto eccoci al terzo video della posizione sull'eurodollaro lo voglio fare perché oltre a spostare il mio stop sopra i massimi di swing quindi ho spostato a più 0,60% di profitto quindi nel caso in cui salga l'euro porterò a caso uno 0,6 ma ho inserito un possibile incremento sell stop sotto i minimi della FTV che c'è qui quindi nel caso in cui adesso lui continui a salire e mi prenderà il trailing stop diciamo di questa posizione 0,6 più e chiudo la posizione diciamo nel caso in cui invece lui scenda e vada a colpire il mio eseguito a quel punto ho in questo incremento rischiato lo 0,6 quindi nel caso in cui mi esegua e poi salga andrò a break even quindi più 0,6 dalla prima posizione meno 0,6 dalla seconda BE nel caso in cui invece mi esegua e inizia a andare nella direzione ribassista avrò il target a 1,1,52 e quindi andrò a incassare l'1,65 circa su la seconda rischiandolo 0,6 e dovrebbe essere così sì 1,65 e un 3 punti circa mi sembra sulla prima ma guardate ve lo dico subito così andiamo a vedere allora andiamo a prendere questo 60 sì andrò a prendere l'1 più l'1 più il 3 quindi circa un 4 punti percentuali rischiando 0 però perché se mi esegui qui boom io se va al contrario poi andrò a 0 ma se va prenderò circa 4 punti 4 punti e qualcosa 4 punti e un po' di più di 4 punti percentuali sulla posizione netta totale aggregata quindi interessante la cosa bene vi farò vedere un po' poi nel prossimo video che cosa è successo un saluto eccoci qua il video della posizione lo faccio adesso dell'ultima mi ero mi ero scordato in effetti poi la posizione è stata colpita qui quindi il mercato lo stavo vendendo su queste aree sono andato a trailing stoppare qui e ho provato a casa circa 1 0 6 per cento del del conto quindi un trailing stop un trailing profit diciamo e quindi una posizione che non ha raggiunto il target ma che comunque ha dato un buon profitto un discreto profitto bene dovevo farlo ovviamente che mi ero dimenticato di registrarla un saluto alla prossima buongiorno a tutti qui è sempre Arduino questo è una nuova operazione sempre su euro contro dollaro e anche in questo caso sono venditore di euro dollaro che mi aveva mostrato un weekly negativo su livello 1 e 14 a questo punto in settimana mi sono dato diciamo in linea di massima l'idea di andare esclusivamente short e ieri c'è stata una barra molto bullish di ampia volatilità che però non mi convinceva visto la dinamica dei prezzi di massimi e minimi precedenti sull'area importante a questo punto questa mattina insomma ho deciso che dovevo cercare appunto di una continuazione short questi livelli nell'area weekly sono i livelli vi faccio vedere ecco qua sono i livelli del 61.8 quindi proprio quest'oggi vedete è stato colpito il 61.8% del ritracciamento del massimo e minimo settimanale e su grafico a 4 ore dopo il forte movimento mi ha mostrato la difficoltà di nuovamente essere venduto quindi ampia volatilità e stop completamente in area 61.8 quindi ho deciso di vendere praticamente a mercato quando il mercato stava per rompere i minimi uno stop ridicolo meno di 50 pips e la possibilità in questo caso di andare a target sinceramente vedendo anche il weekly se dovesse bucare i minimi weekly quindi andare su questo livello l'idea è quella di mettersi a T2 quindi 1.11.50 come obiettivo eccolo qua questa zona qui questa è la zona obiettivo 1.11.50 1.11.40 è l'area dove cercare di prendere profitto è ovvio che fatto 100 vedete in questo caso il nostro stop su questo livello si sta parlando di oltre un 1.3 quindi potrebbe essere davvero una bella operazione però vedremo come va al momento la gestisco inserirò il mio target però poi la gestirò nelle varie prossime ore prossime giornate vi farò sapere ovviamente nel prossimo video come è andata intanto un saluto e ci vediamo al prossimo video eccoci al secondo video della operazione sull'euro dollaro che ho aperto ieri ieri poi c'è stata la conferma con un grafico daily che conferma la mia struttura short di questo mercato quindi questa posizione continua ad essere in profitto adesso questo è un 4 ore sta ha avuto un ritracciamento quindi vedremo un po' la chiusura del 4 ore cosa farò potrebbe essere che vada a spostarmi in lieve profitto sopra i massimi e cercherò il target sul T3 T2 settimanale daily che è l'area 1.11.50 area molto importante di presa profitto che mi porterà a incassare un 1.3.5 di risk reward quindi una bella operazione dopo lo short che è andato in trailings profit con 1.0.6 questo andrebbe molto bene e andrei nel mese di giugno con il target a portare a casa quasi un 7% più rischiando l'1 addirittura qui lo 0.80% però vedremo adesso è ancora tutto da vedere sicuramente però la possibile rottura di questo minimo è facilmente possibile che porti il mercato nella mia area di target vedremo cosa succede poi nelle prossime ore intanto vi saluto e ci vediamo al prossimo video eccoci al terzo video dell'operazione sta praticamente concludendosi tra qualche minuto il 4 ore e con questa barra doppio massimo che tra l'altro si fa guardate sui minimi andando a romperli adesso decido di spostare il mio stop loss in uno stop a profitto sulla posizione e quindi al momento free risk e poi vedremo un po' il da farsi intanto vi saluto ci vediamo al prossimo video eccoci arrivati a un video successivo della posizione ieri il daily ha chiuso in questo modo e io in questo momento ho appena modificato nuovamente lo stop della mia posizione in questo caso ho deciso di prendere questo swing su grafico a 4 ore come area di diciamo trailing profit quindi ho spostato nuovamente il mio stop in profitto su questa zona io ho venduto qui assicurandomi uno 0,80% di gain su posizione e quindi se dovesse sparare nuovamente su colpirebbe il mio stop loss a profitto e comunque ho bloccato uno 0,80% ovviamente mantengo e provo a mantenere la posizione perché nel caso in cui invece si dovesse continuare una fase ribassista il mio target sarebbe come sapete molto importante come risk reward al momento direi però che in questo caso visto il tipo di minimo che ha fatto con il 12-20 molto importante come livello risucchiato al rialzo adesso ha fatto il swing abbiamo aspettato tutta la mattina abbiamo visto un po' che succede ha fatto questa barra così che fa da swing leggermente più alto tra l'altro di massimo 50% del movimento è di questa barra quindi adesso o scende oppure va bene così incasso uno 0,80% e poi vedrò il da farsi se invece dovesse continuare ovviamente ben venga andremo a prenderci la posizione molto probabilmente a target perché se dovesse scendere oltre questo livello è molto probabile che nel giro di 24 ore il mercato vada verso il mio target va bene io intanto vi saluto vi auguro una buona giornata e ci vediamo alla prossima per la continuazione di questa posizione eccoci arrivati alla continuazione del video dell'operazione sull'euro dollaro in questo caso ieri abbiamo avuto la chiusura in area 1,12 quindi molto bene per la mia operazione e avevo già spostato lo stop appunto a 1 a 1 circa di risk reward quindi sui massimi qui di swing come avevo fatto vedere nel video precedente e adesso c'è stata la conferma daily quindi sinceramente adesso non modifico almeno momentaneamente ancora lo stop e al momento cercherò di mantenere appunto il trailing stop in questo modo e il target così così comunque c'è il blocco di 1 a 1 di risk reward e la possibilità comunque di andare a target 1 a 3,5 quindi operazione che se va a target è molto molto interessante vedremo però un pochino che cosa che cosa ci dirà il mercato perché nel caso in cui dovesse crearmi su 4 ore un swing quindi un movimento chiaro di volatilità ribasso magari in area 11,80 molto probabilmente sposterò nuovamente il mio stop un pochino più giù ecco dopo vedrò esattamente dove però al momento è ancora presto io quindi al momento vi saluto e ci vedremo al prossimo video salve a tutti eccoci arrivati con una nuova operazione che ho inserito sul dollaro neozelandese è entrata ieri in questo momento la posizione è in perdita come potete vedere questa acquistata qui con stop loss sotto i minimi fatti ieri che era praticamente una posizione fatta su una conferma di un movimento rialzista sopra il livello 0,65 però questa notte c'è stato un movimento molto forte al di sotto quindi staremo a vedere se tiene queste aree qui e poi vedremo il da farsi comunque nella prossimo video vi andrò a dire se è stato preso lo stop o se il prezzo ha recuperato il mercato ha recuperato il prezzo è ritornato diciamo prezzo di carico superiore il target della posizione in questo caso è un target qui vicino all'area weekly molto importante bene al prossimo video eccoci arrivati al secondo video dell'operazione che è andata a stop proprio qualche minuto fa mercato che da questi livelli è da 0,75 non ha voluto ripartire ma è sceso e come avevo un po' notato subito in mattinata poteva esserci appunto dopo questo movimento forte al ribasso anche un ritorno verso questi minimi meno 1% dopo comunque il più quasi 5% delle tre precedenti insomma ci può stare questo è molto importante perché da un punto di vista di money management avere un rischio sempre uguale come faccio io per esempio dell'uno con dei buoni risk reward poi fa la differenza nel lungo termine vi saluto e ci vedremo al prossimo video